Un'insolita edizione della Bohème di Puccini va in scena in questi giorni a San Giovanni a Teduccio nell'adattamento di Francesco Saponaro e con la direzione musicale di Céline Berenguet. Eseguita per la prima volta nel 1896 sotto la guida di Arturo Toscanini, la Bohème, soave partitura dell'amore e della disillusione, è ambientata nella Parigi del primo ottocento. In questa edizione napoletana la storia di Mimì e Rodolfo prende vita sul territorio di Vigliena, zona industriale di Napoli Est, in uno spazio collocato fra depositi e raffinerie che si affacciano verso il mare. L'area di Vigliena accoglie infatti i laboratori artistici del Teatro San Carlo, nati dalla riconversione degli ex stabilimenti Cirio. Ed è qui che si svolge la messa in scena, cui prendono parte anche alcuni cittadini del quartiere che hanno partecipato ad un laboratorio di formazione realizzato in sinergia con le scuole e le associazioni del territorio. Oggi è un giorno importante perché San Giovanni a Teduccio vive ed è protagonista. Il quartiere è protagonista insieme al San Carlo di questa bohème. La bohème a Vigliena, che ha debuttato il 27 maggio, sarà ancora in scena fino a domenica 3 giugno, tutte le sere ad eccezione di lunedì e di sabato.